Ciao a tutti, oggi andremo a preparare una ricetta pazzesca utilizzando il mix universale mais free della Nutrifree. Prepareremo un impasto aromatizzato a rosmarino con cui andremo a preparare questa focaccia. Andremo poi a condire la nostra focaccia con delle cipolle rosse, taleggio, zucca e poi abbiamo deciso di aggiungere anche del fior di sale e qualche gocciolina di miele. Questa focaccia è davvero particolare ed è perfetta per l'arrivo dell'autunno quando la zucca è di stagione e ne trovate di diverse varietà praticamente ovunque. Il mix che andremo a utilizzare è appunto senza mais ed è della Nutrifree. All'interno il mix contiene farina di grano saraceno, farina di sorgo che si sposano benissimo con sapore più delicati come quello della zucca. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!